Ciao, eccoci qui alla prima tappa dei tre giorni di luce. Siamo stati a fare un bellissimo lavoro in questo luogo magico e abbiamo lanciato l'intento per questi giorni perché ciascuno possa ricevere il miglior lavoro, il miglior risultato possibile, possa ottenere il miglior risultato. Ti faccio vedere una vista, la vista di questo luogo e sono molto contenta perché il gruppo è veramente un bellissimo gruppo e sento che è molto aperto a lavorare e che farà un bellissimo lavoro. Quindi ti saluto, ti auguro una bellissima giornata, ci vedremo magari nelle prossime tappe, adesso vediamo che cosa succederà. Ti aggiorno, ciao!